La Lunetta Gamberina è un parco bellissimo, pieno di attività. C'è il nido, la scuola materna, la scuola elementare, le scuole medie. Ci sono gli impianti sportivi più belli del quartiere Santo Stefano. C'è il centro sociale, luogo di riferimento per tanti anziani. È un luogo di incontro. La domenica in questi prati le famiglie fanno i picnic. Ha però bisogno di più manutenzione. Il nuovo consiglio di quartiere, che verrà eletto il 5 giugno, se ne deve occupare. Insieme, le istituzioni, le associazioni, i cittadini, chi frequenta la Lunetta, dobbiamo fare un progetto di riorganizzazione, di manutenzione straordinaria della Lunetta per renderla sempre più bella.